buongiorno cari amici benvenuti nella rubrica 90 secondi con dopo il successo di 90 secondi con salvadore vetere quest'oggi dedicheremo questa rubrica ai allo staffo di promuovi poggiato alla mia destra roberto il regista con una passione innata per i video ma anche per la pesca su pagua vero roberto? verissimo Nicola invece che ricopre il ruolo di aiuto regista suggeritore cosa vuol dire suggeritore? suggeritore è quel signore che si mette dietro la telecamera nel momento in cui lo speaker è in difficoltà lui suggerisce con i gesti fa delle mosse che fa capire a chi sta parlando suggerisce e oltre ad essere aiuto regista individuatore di location è lui che decide dove dobbiamo fare video in che modo e come farlo diciamo è la mente dello staff di promuovi poggiato la mente organizzativa Nicola vuoi dire qualcosa? sei adesso ci sta indicando dove andare per fare riprese lui è un soggetto un po' timido ma vi assicuro ha una conoscenza del territorio incredibile ed è di una simpatia stiamo tentando con roberto di coinvolgerlo in una sua rubrica però dobbiamo fare dei passi dei brevi dei piccoli passi la politica dei piccoli passi salutiamo grazie perché ci seguite vi vogliamo bene arrivederci ciao ciao ciao